Continuano i tamponi nelle scuole della città di Pesaro. Dopo l'operazione scuole sicure conclusa la settimana scorsa negli istituti superiori della città di Pesaro, un'operazione voluta proprio dall'amministrazione comunale della città, domani scatta per la prima volta in via eccezionale anche uno screening nelle scuole inferiori e principalmente nella scuola primaria di via Fermi, quella che vedete alle mie spalle, scuola che a quanto pare negli ultimi periodi è stata soggetta a diversi casi di positività al Covid-19, prima tra i bidelli, poi tra gli insegnanti, si è arrivati a diverse classi in quarantena fino ad arrivare agli uffici amministrativi dove sei addetti su nove sono attualmente in quarantena. Alla dirigente dell'istituto comprensivo Leopardi, Lucia Nonni, abbiamo chiesto il quadro attuale della situazione. Attualmente abbiamo una classe, una sezione della scuola dell'infanzia di via Fermi che è in quarantena, poi abbiamo altre tre classi in quarantena della scuola primaria di via Fermi. Per quanto riguarda il resto, diciamo che attualmente il focolaio riguarda il personale scolastico, quindi docenti, in minima parte ancora, e molti collaboratori scolastici, assistenti amministrativi. Per verificare se questa situazione si sia estesa anche alle classi, ai docenti, quindi con eventualmente la presenza di soggetti asintomatici, abbiamo richiesto all'ASUR di poter effettuare uno screening con dei tamponi antigenici per tutti i bambini del plesso scolastico di via Fermi, che è composto circa da 300 alunni e anche per il personale dell'istituto, perché chiaramente poi ci sono anche docenti che sono itineranti su più plessi e quindi abbiamo avuto il parere positivo da parte del dottor Liverani. Quindi domani partiremo presso la palestra di via Fermi con questo screening su base volontaria. Ci sarà una fascia oraria dedicata al personale scolastico e poi ci sarà una scansione oraria per permettere ai bambini accompagnati dai genitori di poter effettuare il tampone. Si tratta di un test su base volontaria, ma il nostro invito è quello di accogliere in modo massivo questa effettuazione del tampone proprio per cercare di andare a scremare, individuare eventualmente persone che non sono asintomatici, quindi poter avere una fotografia un pochino più chiara della situazione. Che riscontri avete avuto da parte delle famiglie e degli studenti per questa possibilità? Allora io sono in continuo contatto naturalmente con le famiglie che sono molto preoccupate per questa situazione e attualmente io ho delle risposte molto positive da parte di tutti. Chiaramente non ho ancora i numeri definitivi perché vedremo domani sul campo quanti effettivamente decideranno di aderire, però credo che il personale aderirà naturalmente al 100%, io stessa mi sottoporò nuovamente al tampone e credo che ci sarà una alta partecipazione da parte di tutti gli alunni e di tutte le famiglie. Uno screening dunque nato su richiesta dell'Istituto Leopardi all'Asur che ha avallato questa scelta dello screening che parte dunque domani a partire dalle 13. Si comincerà con il personale scolastico e poi i ragazzi delle scuole, i ragazzi under 14 appunto della scuola primaria accompagnati dai loro genitori saranno sottoposti al tampone che naturalmente è su base volontaria.